Rodi ha voluto rendere omaggio al mondo del tartufo con questo allestimento turistico didattico, un allestimento che vuole appunto rendere omaggio a un mondo così importante per l'economia della nostra zona che dobbiamo riconoscere il benessere turistico ed economico buona parte deriva dal mondo del tartufo. Rodi è legato dal tartufo da sempre e sede infatti dell'unica università di cani dal tartufo al mondo e già le amministrazioni precedenti a quella attuale hanno voluto il castello come castello del tartufo. Quindi lo sviluppo futuro turistico di Rodi sarà sicuramente in questa direzione. Questa ne è una partenza, voler offrire ai turisti che raggiungeranno Rodi ma tutta la zona dell'Albese un punto di partenza per conoscere il mondo del tartufo per poi approfondirlo personalmente poi nelle cucine dei nostri ottimi ristoranti.